Musica Prende l'impergo dal nostro mobilificio a 4 milioni di euro E con tuo fratello come la mettiamo? Qui ci sono 250 mila euro E ognuno per la sua strada, da bravi fratelli Arrivi qua con la tua valigetta E ti aspetti che faccia tuo fratello per 5 minuti perché ti serve la firmetta? Cioè dove sarà mai andato? In Africa? Peggio, in Calabria No bello qui eh Cosa ti aspettavi di trovare? La Spromonte Questo è la Spromonte Ah, è la ventina in casa? Certo Qua nasce, cresce e si riproduce poi sull'asfalto No! Ma l'hanno rapito! Siamo in la Spromonte sì o no? Io ti metto a disposizione il nostro migliore agente del nucleo investigativo Ma proprio qua dovevamo arrivare? Dobbiamo esplorare il posto Siamo nel ventunesimo secolo e i telefoni non prendono Peggio che in Amazonia Ci sono stati in Amazonia Lì prendeva vero? No, negli anni ottempo Ma quanto tempo ci vuole per arrivare da qua forse? Tu dici che ci vuole mezz'oretta, tu dici 5 minuti Proprio in fondo, in fondo io non sono andato Lui sta citi cercando a chi gli amico moscio E cerca di qua, cerca di via Cerca di qua, cerca di via Che c'ho l'acqua? Il petrolio? La cruce? Lì venivano rilasciati e sequestrati Almeno quelli che venivano restituiti Sarò stato troppo duro con lui A volte tra fratelli non ci si capisce Niente accade per cazzo Ognuno ha il suo destino E c'è sempre un tempo per capire Per ricominciare e magari anche per perdonare Salute! Ne sono spariti tanti per molto meno quei nel Spromonte Vi ripresto l'imperato Chi ti dice che sia la sua scrittura? Io gli ho insegnato a scrivere Ho trovato la camicia di mio fratello Ogni famiglia ha il suo odore Questo è il nostro Senti soffritto Ditegli a vostro capo che sono disposto a pagare tutto Dopo di rivedere i miei fratelli Cosa sono questi? Un giorno anche l'andraglie da figlio Come faccio a dire tutti i scambi ci faremo che l'hanno ammazzato? E io che pensavo di chiederti aiuto Ma come faccio? Guarda come t'hanno a combire E fossero stati loro a rapirlo E' proprio inutile che lo cercano Perfine Sì Sì